Anticipazioni Beautiful, martedì 4 febbraio 2020. Wyatt e Sally pasano a Malibu per trascorrere un po' di tempo con le nipotine. Il giovane Spencer spende dolci parole per il gesto nobile fatto dalla SEO e ci tiene a sottolineare di notare anche lui, come tutti, una forte somiglianza tra le due piccine. Steffi ammette che non era del tutto convinta di portare a termine questa adozione. Poi ha parlato con Liam e ha conosciuto la piccola. È rimasta stregata dalla sua dolcezza e ha deciso di adottarla. Sicuramente se ne sarebbe pentita per sempre. Sa per certo che questa piccolina non potrà mai sostituire Beth, ma Freeway aiuterà tutti a lenire la sofferenza. Zoe e Xander si scambiano tenere fusioni negli uffici della Forrester Creation. La modella poi gli parla di Flo, un'amica del padre. Dice che vive nell'appartamento che quest'ultimo ha lasciato e che ha avuto l'impressione che nascondesse qualcosa. Non si meraviglia del fatto che il genitore in passato è stato con una donna molto più giovane di lui. Quello che l'allarma e la certezza che i due abbiano un segreto, qualcosa di molto compromettente da nascondere. Flo quando la incontra si agita, si spaventa e tutto questo perché non vuole che le vengano fatte domande. Liam intanto ancora con Hop le chiede di non fingere di essere forte solo perché la sorellastra ha adesso una nuova bambina. La morte di Beth è avvenuta da poco e non deve sentirsi costretta ad essere forte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.